Ci sono però molte questioni aperte che dobbiamo affrontare tutti insieme, concrete. C'è la questione dei rapporti bilaterali tra Italia e Brasile. Posso dirlo tra di noi? Possiamo fare di più. Perché? Perché se finalmente i nostri Paesi scelgono la strada della stabilità, sapete che quando c'è tensione politica è un po' più difficile lavorare insieme. Se i nostri Paesi, sia l'Italia che il Brasile, scelgono la strada della stabilità, questo mercato, questo insieme di valori umani, culturali, sociali, personali, economici, può essere una grandissima opportunità per l'Italia. E l'Italia in questa fase può essere per il Brasile, proprio mentre si apre la discussione sul nuovo accordo Europa-Mercosur, può essere l'Italia, può essere il grimaldello per il Brasile, per lavorare bene in Europa. Grazie. Grazie.